Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Torniamo su The Sims 4 ma con una challenge abbastanza strana. Sicuramente vi sarà capitato di vedere il format mangio cibo dorato, nero, blu, giallo, verde, arancione per 24 ore. Un format americano e anche italiano perché è presente su YouTube Italia che hanno fatto in tanti. Beh, io ci ho pensato un po' e ho detto perché non farlo su The Sims 4? Spero che questa idea vi piaccia ragazzi, fatemelo sapere sotto nei commenti e ditemi se vorreste altri video con altri cibi di altri colori. Si potrebbe fare anche Vivo la mia vita in rosso per una giornata, che so, magari tutti i vestiti di rosso, con una casa rossa, con tutte le cose rosse. Insomma, ci sono tante idee che potremmo fare. Prima di lasciarvi al video però ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti appunto se vorreste altri video di questo che potrebbe essere un nuovo format. A questo punto vi lascio al video e buona visione! E quindi ragazzi, eccoci finalmente in partita. Ci troviamo a Strangerville e questa casetta è la casa della nostra sim protagonista della challenge, che ora vado anche a presentarvi. Come vedete ragazzi, sono in pausa perché quando si fa una nuova partita, come in questo caso, si spona alle 8 del mattino. Io purtroppo non sono riuscito a mettere pausa subito, quindi sono le 8 e 7, quindi ricordiamocelo per la challenge. Comunque, prima di andare avanti, volevo un po' farvi conoscere la nostra sim che si chiama Francesca Marchetti. Vi faccio vedere un attimo, l'immagine pubblica non ce l'ha, ma è una sim attiva, amicona, ambiziosa, attraente e veloce ad imparare. Ora ve la faccio vedere, guardatela un po' che qua è in pausa, devo dire che è molto molto carina e comincia così la challenge ragazzi. Quindi direi che facciamo un bel play, staremo con la nostra velocità a 1, quindi dobbiamo stare attenti e pensiamo già a cosa fare per colazione, perché è una bella estate e pensavo che visto che è estate direi che cominciamo la challenge con della frutta fresca. Quindi acquista semi, direi che prendiamo un po' di confezioni magari di frutti base, così le abbiamo nell'inventario e vediamo un attimo cosa possiamo prendere. E direi che li spacchettiamo, quindi apri un pacchetto di semi, apri un pacchetto di semi, apri un pacchetto di semi e se non ricordo male qua ci sono le mele, ma dovrebbero esserci anche le fragole, perché io volevo fare colazione con le fragole ragazzi e le mele magari lasciarle per uno snack, magari per una merenda, quindi vediamo un po'. Abbiamo dei cibi arancioni e verdi, che non mi fa tanto impazzire, soprattutto sono quasi le 9 del mattino, io dovrei darmi una mossa. Ora, ricordavo che si potevano mangiare le fragole, quindi non so perché qua non abbiamo le fragole di default. Apriamo, niente ragazzi, niente di niente, tutti i frutti rossi, oddio, una mela al giorno toglie il medico di torno e lo sappiamo bene, però a questo punto io direi che possiamo viaggiare e magari andare a Willow Creek a cercare qualche orto perché voglio le fragole. E ci siamo ragazzi, sono le 9.11, io sto in pausa, perché questo? Perché intanto qua è nuvoloso, non mi fa impazzire questo tempo, ma qua dietro ci dovrebbe essere intanto un chioschetto e la cosa mi piace. Voglio ricordare però dove trovo le fragole e non ricordo dove le trovo in effetti. Sono venuto qua a Willow Creek perché mi ricordavo fossero da queste parti, ma probabilmente me lo sto inventando. Quindi se non trovo le fragole da queste parti, beh, direi che ci rinuncio. Proverei però un attimo ad acquistare dei semi e vediamo un po' se magari qua cambia qualcosa. Vado a fare un frutti base da qua e vediamo un po' se cambia la situazione. Apri un pacchetto di semi, vediamo un po'. Niente ragazzi, 30 mele e allora ordina del cibo, dai, vediamo un po'. C'è qualcosa di rosso, parfait al cioccolato, la vaniglia, patatine fritte, hot dog e hamburger. Niente ragazzi, ci va male anche con la bancarella e a questo punto questa sim non può morire di fame, quindi cerchiamo qualcosa da fare. E niente ragazzi, mi sono spostato nel parco di Willow Creek. Sto sospettando che le fragole non ci siano perché siamo fuori stagione. Quindi visto che lei è amicona, direi che possiamo provare a flertare con lui. perché mi è venuta in mente un'idea e ho comunque la soluzione per la colazione. Sono già le 10, il che non è il massimo. Facciamo amichevole, altre scelte, chi della sua carriera. A questo punto, beh, me lo porto a casa. Quindi viaggiamo di nuovo verso casa con il nostro nuovo amico. Pausa a tutti perché adesso si cucina ragazzi. Ora, il mio obiettivo era quello di fare i nostri biscottini a forma di cuore. Vediamo un po' il pasto grandioso. C'è una base di prosciutto che è comunque carne rossa, se vogliamo, eh. Quindi in realtà possiamo farlo. Solo che dobbiamo fare il brunch. Macedonia di frutta, uova e toast. Cucina. Vediamo un po' la lista se c'è qualcosa di rosso. Beh, la macedonia di frutta è molto molto rossa. Viuste le fagioli. Al mattino. E a mezzogiorno topi morti. Ragazzi, direi che ci accontentiamo di fare colazione con viuste le fagioli. Sono comunque rossicci, il piatto è rosso. E ci facciamo bastare. Poi dobbiamo già pensare al pranzo. Sono già le 11, quindi probabilmente mangeremo un pochino tardi oggi. E intanto proviamo a flertare con lui. Perché comunque vorrei fare anche i biscottini a forma di cuore. Quindi vediamo un po'. Parla di stringervi il no. Amichevoli. Complimento sincero. Intanto lui ci ruba il pc. Sì, ragazzi, dai. È tutto rosso. Su via. Passatemela. Passatemela la colazione che davvero... Non ho trovato le fragole. Abbiamo un po' di mele. Quindi qualche frutto rosso lo abbiamo anche da noi. E beh, faremo magari un pranzo verso le due. E probabilmente... Va bene. Ce la facciamo la mia sim. Quanto ci vuole servivius delle faggiori? Grazie. Ok, intanto lei sta girando. Devo cercare un sim adulto per farla diventare flertante. Tanto quanto basta per andare ad infornare i biscotti a forma di cuore. Quanto ci è mancato a stringervi lì in tutto ciò, ragazzi? E beh, i sim strani ci mancavano. Quindi, ragazzi, colazione fatta alle 12.21 e io a questo punto devo andare a giro a cercare di procacciarmi il pranzo. Abbiamo però la merenda e credo proprio che sarà mera. Pensate un po'. Quindi ve lo spoilerò già. Abbiamo già il frutto rosso. E dove andiamo a mangiare di bello? Mmm, qualche bancarellina, magari di cibo food. Perché pensavo per la cena magari di andare in un ristorantino per vedere un attimo, di fare tutte le cose. Sempre sul rosso. Ma, per quanto riguarda il pranzo, pensavo di mangiare magari nello street food. Sarebbe carina come cosa. Intanto li sta mangiando molto, molto lentamente. A me sembra che passi un'eternità, ma sono abituato a velocizzare il tempo. Quindi è strano aspettare che loro mangino. Provo a parlare con Ted. Grazie. Sì, è arrivato il comitato. Beh, qua in realtà ha il fiocchetto rosso, ma è torta alla frutta da gourmet. Adatto ai vegetariani. Il comitato di benvenuto va bene. Ciao. Ciao. Ok, ciao. Invita i vicini ad entrare. Direi che sono delle persone molto, molto tranquille. Quindi sì, direi che ci sta. Intanto lei ha quasi finito di mangiare, ragazzi. È perfetto, perfetto. I vicini stanno entrando. Tutti molto, molto a modo, mi dicono. Davvero dei vicini che la metà basta. Grazie. Ok. Fai pure le altre cose, cara la mia Federica. Vediamo un po'. Grazie. Francesca, Francesca. Scherzavo, scherzavo. Entrate pure, ragazzi. Ma quanto siete normali, mi dicono. Potete entrare. Grazie, ragazzi. Ma bravi così, ma bravi così. Uh, c'è il medico. E allora aspettate che provo a flirtare con lui. Quindi facciamo così. Presentazione divertente con il medico. Sono le 14. Ok. Dobbiamo anche stare attenti per il pranzo. Questo lo metto in frigo, ma in realtà lo butterei anche. Grazie. Puoi anche alzarti. Grazie. Grazie, Francesca. Assistimi in quello che devo fare appena... Ok. Appena ha fatto partire una loffa, ragazzi. Direi che per sciogliere il ghiaccio è perfetto. Ah, lei sta diventando flirtante, raghi. Ma guardate un po', ma allora manda un bacio, battuta da bordaggio. Facciamo un complimentati per l'aspetto. E facciamo anche un altro flerta. Non mi interessa tanto di flirtare con lui, ma mi serve fare quei benedettissimi biscotti. Ma le risaglie. Vieni con noi nel cratere. No, grazie. Ho altro da fare, sinceramente. Battuta da bordaggio, bacia. Grazie. Voglio vedere se mi diventa romantica, o meglio flirtante. Ciao, simpaticona. Sei molto, molto tenera. Davvero tenerissima. Yeee! Flertante! Bravi, raghi. È arrivato il momento di infornare i biscotti a forma di cuore, raghi. E che fai? Non li facciamo? Altre scelte, altre scelte, altre scelte. No, per favore. Sbloccami i biscotti a forma di cuore. Forse dobbiamo avere un bel livello di cucina per farlo. Quindi tutto quello che abbiamo fatto è praticamente stato inutile. Che bello. E vabbè. Allora a questo punto sono le 16. Io direi che c'è un agente segreto che mi ruba il frigo. Ma siamo pur sempre a strangerville. Grazie. Mangiamo un po' di mele, ragazzi. Ok. Abbiamo fatto anche merenda. Questo è un frutto rosso. Abbiamo mangiato viuster e fagioli e rossicci a pranzo. Stiamo mangiando delle mele per fare un po' di snack. Mangia la mela. Volete lasciarmi qualche arredo oppure dovete rubarmi tutto? Grazie, raghi. È stato un piacere conoscervi. Vediamo sicuramente cercare una bancarella che ci dia del cibo. Perché davvero non ne vediamo a capo. Vediamo un po'. Qua c'è intanto il bar. Potrò magari prendere qualcosa. Uh, vediamo un po'. Dei pesci. Vediamo un attimo se c'è qualcuno che ci assiste. Ciao. Facciamo presentazione flertante, non mi interessa. Vediamo un po' se lui mi vende qualcosa. Compra il peschiato del giorno. Ci sta. Magari ci sono dei pesci rossi che possiamo anche grigliare. E possiamo magari fare il nostro pranzetto a base di pesce rosso. Quindi ci sta, ci sta. Abbiamo infatti fatto colazione, vi ricordo, con viuster e fagioli. La nostra break, in realtà, con le mele. E ora dobbiamo pranzare alle 17. 17, pensate un po'. Salmone, ragazzi. Beh, il salmone è rosso, dai. Fuori è rosso, ragazzi. Concedetemelo. Ci prendiamo tre salmoncini. Grazie. Direi che per pranzo vanno benissimo. Poi li posso imbalsamare. Ma in realtà pensavo di andare, che so, in un parco. E perché no, magari farli grigliati. Quindi cerchiamo un bel parco e mangiamo. Arriviamo quindi, ragazzi, nella nostra Sulani. In questo video mi piace perché mi sta anche permettendo di viaggiare un po' per tutti gli scenari. Voglio vedere un attimo griglia. Eh, no. Vorrei... Per favore... Grazie. Posso accendere questo? Grazie. Vediamo un po'. Ok, ho schippato un attimo i minuti, scusate. L'abitudine. Ok. Qua posso grigliare il salmone? Oppure no? Danza. Passa del tempo. Aggiungi combustibile. Cambia il colore del fuoco. No, ragazzi. Mi serve in realtà l'altro. Ovvero quella roba che ci permette di cucinare con le lattughe. Mettiamola così. E a questo punto io proverò a modificare il lotto e a comprarla. Così almeno non vado troppo a giro per lo scenario. Quindi datemi un attimo che aggiungo tutto quello che ci serve. Vedere che vado a fare un bel mostratutto e anche un bel isola da sogno. E vediamo subito di arrangiarci. Poi però ti ricordi che l'espansione si chiama Vita sull'isola. Ma chi se ne importa? Uh! Qua abbiamo già le cose belle. Gran banchetto di barbecue. No, ragazzi. Io vorrei semplicemente... Posso? Peccato. Cioè, in realtà io vorrei mangiare il salmone. Perché tutto questo mi è impossibile? Qua intanto c'è del cibo isolano. E vediamo un po'. Uh, c'è del kebab. Mmm. Salmone barbecue, ragazzi. Ok, prendiamo una porzione da lei e facciamo il nostro pranzo alle 18, ragazzi. È una challenge molto molto difficile perché il colore rosso è molto molto particolare. Approfitto anche per chiedervi se vorreste altre challenge di questo tipo. Però magari, che so, mangio cibo blu, mangio cibo verde, eccetera eccetera. Fatemi sapere se vi sta piacendo la challenge. Intanto io mangio il salmone, grazie. Sono davvero affamato, non è vero mai. Però comunque il salmone, dai, è rosa rosso se vogliamo. È comunque rosato. E al momento non posso mangiare altro. E siamo solo a pranzo. E a questo punto, ragazzi, io per lo spuntino o andrei di pomodori. Davvero come se non ci fossero domani. E magari cerchere un ristorantino dove mangiare qualcosa per cena. Visto che farò lo spuntino, credo, alle 19.30. E poi l'ultimo passo della challenge, ovvero la cena. Magari la facciamo intorno alle 23.00. Così almeno completiamo il tutto. Lei intanto è energica, ragazzi, eh. Ok, lei intanto chiama senza voce, ragazzi, perché l'ha persa. Va bene. Aspettiamo che la nostra simpaticissima, me lo dimentico sempre, Francesca, finisca di mangiare. E poi credo proprio ce ne torneremo a casa per comprare dei pomodori a questo punto per il nostro apericena, se vogliamo. E poi decidiamo appunto cosa fare per cena. Intanto qua però mi dice che mancava di fuoco. Per la danza di fuoco fallita, ma non è questo l'importante. Ci ritorniamo a casa, ragazzi, mangiamo qualcosina e poi cerchiamo un ristorantino dove concludere degnamente, si spera, questa challenge. Quindi, ragazzi, 19.22. È ora davvero di mangiare qualcosina. Direi che acquistiamo dei semi e a questo punto vado a fare verdure base. Grazie, ne prendo quattro pacchetti, li spacchettiamo, apri un pacchetto di semi. Ci dovrebbero essere i pomodori di default. Ditemi di sì, ragazzi, so via. Vediamo un po'. Non ci credo, ragazzi. Ma niente pomodori. Di nuovo, ragazzi, niente. 19.44. Beh, direi che a questo punto ci mangiamo. Ok? Due o tre mele, ragazzi. È stata una challenge difficile con il colore rosso. Perché, come vedete, l'arancione c'è, il giallo c'è, il verde c'è, un sacco di roba. Magari la rifacciamo con quel colore verde. Fatemi sapere se vi piace. E beh, ricapitoliamo. Abbiamo fatto colazione con Viustere e faggiori, rossicci. Abbiamo poi fatto un piccolo brunch, se vogliamo, era tardi, con le nostre mele. Poi, per pranzo, ci siamo concessi del salmone. Qua, a merenda, in realtà, alle 20, ci siamo concessi altre tre mele. Quindi, tutto cibo rosso. E a questo punto vado al ristorante, fra una barra due orette. E cerchiamo di mangiare, e cerchiamo di mangiare qualcosa di rosso, proprio lì. A questo punto, ragazzi, è arrivato il momento di sfondarci di cibo. Ho richiamato il nostro nuovo amichetto, e direi che lo salutiamo, magari con un bel romantico, e anche un bel flerta, perché no? Sono le 20.03. Devo dire che sono arrivato un po' presto. Avevo detto che saremmo venuti intorno alle 23. Ma, ragazzi, abbiamo mangiato due mele, un po' di salmone e dei fagioli. E abbiamo petato tutto il giorno. Quindi, capite bene che, in realtà, beh, sicuramente, se fatta una certa, la fame ci sta chiamando. Intanto, loro stanno bene insieme. Colpo d'anca, romantico, facciamo. Battuta da bordaggio. Beh, dai regalo romantico. Diamo un bel po' di funghi, ragazzi. Perché sì? Perché siamo un po' porcini nell'anima. Quindi, lo facciamo, lo facciamo. Salve. Lei è anche bella, bella e elegante per il nostro ristorantello. E intanto qua, ragazzi, è estate, ma c'è un temporale che la metà basta a Newcrest. Chiediamo un tavolo. Chiediamo un tavolo perché, in realtà, lei sta morendo di fame. Però è molto, molto carina, anche in abiti eleganti. Ciao, cara. Ce lo dai un tavolino? Ma che ti costa? Ciao, Nancy. Lo so che sei la nostra. Molto attraente. Molto flertante. Grazie. Aspetta di poterti sedere. Grazie. 50 simoleon. Intanto lei sta prendendo un sacco di ordinazioni, ma ci può dare un tavolo. Grazie. Ci dà un tavolo. C'è qualcuno che ci dice, ehi, sai che c'è? In questo ristorante non ti danno i tavoli. Devi crepare di fame. Oh, lei è tornata. Ma quanto è simpatica. I camerieri che vanno a ballare sotto la pioggia. Bello, bello così. Grazie. Ce lo daresti un tavolo? Ti costa fatica? Grazie mille. Ok. Eccolo qua. Vai al tavolo. Intanto la seguiamo, perché ora in teoria dovrebbe. Chiedi un tavolo. No. Vai pure al tavolo. La seguiamo. Grazie. E intanto il nostro simpatico accompagnatore è il grondante di pioggia. Pensate un po' come sta messo. Vediamo un attimo che tavolo ci dà. Vi ricordo che questo l'abbiamo buildato in live, questo ristorante. Grazie. Tu devi stare qua, in mezzo alla pioggia. Ma che carina. Ordina per il tavolo che io ho fame, i camerieri. Guardate un po'. Ma che giornata è per andare a mangiare al ristorante. Ma che schifo è, ragazzi. Non importa, non importa. È pur sempre un mio gameplay. Lei intanto accusa un po' il sonno. Ma ciao raghi. Ho mangiato due meli in tutto il giorno. Adesso mi sfondo. Allora, miscela di nettare rosso sicuramente per tutte e due. Lo facciamo. E cosa possiamo mangiare di rosso? Ah, cippino. Tortellini all'aragosta. L'aragosta è rossa, ragazzi, eh. E torta di fragole. Ragazzi, sì. Quindi facciamo anche l'aragosta e poi prendiamo anche la torta. Perché dobbiamo recuperare tutto quello che non abbiamo mangiato in tutto il giorno. Appuntamento eccitante a cena. Per aver chiesto un tavolo a un ristorante. È che facciamo. Non... Facciamo cadere i sim nelle pozzanghere? Wow. Non voglio neanche immaginare come arriverà la mia torta alla fragola. Vuoi vedere che ci sarà del cioccolato? Qualcuno riesce a portarmi l'aragosta? Grazie raghi. Lo apprezzo tanto. Ma quanto siete energici e scattanti sotto la pioggia. Devo dire che questo ristorante non è il massimo. Comunque, ragazzi, ecco qua. Facciamo un bel tab. È tutto rosso a cena, ragazzi. L'aragosta e anche il vino. E se dovesse cadere un fulmine e possiamo anche morire male. Beh, tranquilli. Almeno moriamo un pochino sazi, spero. Ciao raghi. Ah, sì, me l'avete spiegato che da Sulani in realtà arrivano i sim a guardarti male. Lui è molto molto arrabbiato con il mondo. Devo dire che Niccolò Ricci ci fa davvero tanta compagnia al tavolo. Arriva anche al cameriere e anche lui è arrabbiato. Ma ragazzi, giuro, non mangerò più mele. Se sono il problema le mele, tranquilli ragazzi, evit. Proviamo ad impacchettare il tutto. Vediamo un po' se funziona. Magari ce lo mangiamo a casa. Perché è un peccato. È davvero un peccato. Impacchetta. Vediamo un attimo. Nessuna interazione, ragazzi, funziona. A quanto pare non funziona nulla. E purtroppo credo proprio che teneremo qua la challenge. Perché in realtà sono un po' baggatelli. E non posso neanche teletrasportarla. Vedete, in realtà non funziona nulla. Ok, ok. Forse riusciamo. Vai qui. Perfetto. Proviamo a prenderlo, a metterlo al sacco. Vediamo un po'. No, ragazzi, quando arriva al nostro tavolo ci sono un sacco di sim che arrivano qua e ci ostruiscono i movimenti. Quindi, come vedete, non può fare più nulla. Può andare da questa parte, credo. Vediamo un po'. Ma non può fare nulla con il tavolo. Perché ci sono loro che ci disturbano. No, ragazzi, non mi fa neanche pagare. Ok, purtroppo siamo scusati dai bug. Che probabilmente per la prossima challenge, che se vi va vedrà un nuovo colore, cercherò di evitare i ristoranti. O comunque farò un ristorante un pochino più largo dove c'è la possibilità che i sim non si bagghino. Perché magari è dato anche dal fatto che i tavoli sono vicini, che ci sono comunque queste fondamenta. Detto ciò, però, ragazzi, vi dico che per questa challenge è tutto. Abbiamo mangiato cibi rossi per tutto il giorno. Abbiamo vinto la challenge. Fatemelo sapere sotto nei commenti. E fatemi sapere anche se vorreste altri video di questo genere. Quindi, ragazzi, si conclude così. La nostra challenge è stata fallimentare. Beh, un pochino sì, perché i pomodori, le fragole erano fuori stagione. E comunque il rosso è un colore molto molto difficile. Ma alla fine ce la siamo cavata. Quella ragosta ce l'abbiamo ancora nel gruppone. Ma piano piano la mangeremo. Scherzi a parte, mi spiace per i bug che ci sono legati al ristorante. Spero li fixino presto. E speriamo che vada tutto per il meglio. Detto ciò, però, io non posso fare altro se non ringraziarvi per essere arrivati fino alla fine. Invitarvi a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Trovate, come sempre, qui i canali dove iscrivervi e anche gli altri video. Io vi do l'appunto dentro alla prossima e vi dico ciao a tutti.